Da un lato l'essentra la multinazionale britannica che tra le altre cose produce filtri per sigarette ed altro fino a gennaio scorso anche nello stabilimento ex Filtrono nella zona industriale di Salerno, dall'altro i sindacati e soprattutto gli 83 lavoratori del sito Campano da quasi tre mesi impegnati in un braccio di ferro con la proprietà, giunto oggi al momento cruciale. Dopo il presidio permanente e gli incontri infruttuosi sia a Salerno nella sede di Confindustria che a Napoli, aziende e sindacati di nuovo di fronte all'orme nel settore politica e del lavoro della regione Campania per cercare di trovare seppur in extremis soluzioni alternative ai licenziamenti che in caso contrario potrebbero scattare già in settimana. Oggi l'ultimo faccia a faccia a due giorni dal termine del litere della durata di 75 giorni. Giovedì, se non dovessero registrarsi novità, potrebbero partire le lettere di licenziamento per i lavoratori salernitani. Il sindacato anche oggi nell'incontro che dovrebbe terminare intorno alle 17 tornerà a proporre una cassa integrazione straordinaria destinata alla ricollocazione puntando anche se le iniziative ipotizzate dagli enti locali. Il comune di Salerno ha parlato di fiscalità di vantaggio alla regione Campania di percorsi formativi con l'obiettivo di attrarre nuovi investitori interessati a rilevare lo stabilimento per far ripartire la produzione anche con una riconversione. Una delegazione di lavoratori è partita per Napoli, mentre il resto ha proseguito il presidio dello stabilimento di Viale De Luca nella zona industriale di Salerno dove sono state festeggiate Pasqua e Pasquetta con uno stato d'animo diametralmente opposto a quanto accaduto nel 2013 quando i venti della crisi non avevano ancora colpito l'Essentra che, secondo i sindacati e gli stessi operai, non presenterebbe comunque conti in russo.